Per il canale Albani e gli amanti della piccola oasi faunistica che era diventato, con la liberazione di 12 esemplari di anatidi questa mattina si chiude un'articolata e complessa vicenda che ha accalorato e appassionato gli animi di molti fanesi, ecologisti e non, turisti, residenti e amanti degli animali. Ricordiamo che la falcidia di papere anatre e anche di un bellissimo Cigno Bianco si verificò lo scorso anno, più o meno di questi tempi, per la devastante siccità. Assenza di ricambio dell'acqua del canale artificiale Albani che prima causò per mancanza di ossigeno nell'acqua la morte di migliaia e migliaia di pesci prima e poi dopo averlo trasformato in una maleodorante acquitrino puzzolente e le pozze d'acqua in trappole mortali in un cimitero a cielo aperto poi per i suoi abitanti. Tutto questo nonostante l'opera meritoria di volontari, Enel Green Power, protezione civile, servizio verde pubblico del comune che portavano acqua e cibo agli animali rimasti, però questo non evitò lo spopolamento del canale dai pochissimi esemplari rimasti per sottrarli a morte certa e la trasformazione ahimè del canale per mesi e mesi in un triste ed esolante spettacolo oggetto anche di sarcastici cartelli messi nel bel mezzo del letto del canale. Si è fatto un percorso che è un atto d'amore verso gli animali perché questo protocollo alla fine va verso quello che era anche stata la polemica e l'aspettativa della gente di avere questi animali in sicurezza e con questo protocollo è anche un atto d'amore verso gli animali. Oggi è una bella festa, tanta partecipazione significa che abbiamo fatto una cosa giusta seguendo la strada giusta. C'è un'associazione, ci sono dei volontari che sono preposti ad alimentare tutti i giorni con un menu speciale in due punti ben individuati del canale, gli anatidi e per questo invitiamo tutti i cittadini a non ripetere come in passato gli errori di gettare chili e chili di cibo ogni giorno lungo il canale, peraltro i giorni scorsi il Comune ha prodotto anche un'ordinanza proprio per vietare questa cattiva abitudine perché non serve agli anatidi e invece crea un problema per la prolifazione dei ratti. Certo che 12 anatidi uniti ai presenti che fanno una colonia così di 25 esemplari sono poca cosa rispetto agli orte 100 esemplari antessicità, ma è solo l'inizio e poi sono alquanto particolari. Sono razze domestiche selezionate, sono le corridrici indiane che poi vedranno le gente che staranno dritti in piedi quando nuotano sembrano delle anetre normali, quando invece salgono sul terreno, assumono una posizione retta, tanto è vero che vengono chiamate anche anatre e pinguino. Poi ci sono delle anatre enane di varie razze, c'è l'anatra smeraldo che sarà quella nera che prenderà dei colori cangianti sul verde smeraldo, molto bella, poi ci sono le anatre arlechino che sono quelle un po' tutte colorate, poi ce n'è una nana colorata si chiama e poi ci sono quelle ciuffate, una quella bianca che vedrete che è stata lasciata, che al ciuffo si chiama anatre di bali.